Miau! 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 Bentornati a Cronache Bestiali, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo dei gli animali. Come sempre parleremo della salute, dell'alimentazione ma anche dell'educazione dei nostri amici a quattro zampe e andremo a conoscere un amico in cerca di famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici a quattro zampe come sempre in compagnia del dottor Martini, oggi per parlare di gattini. Insomma si avvicina il periodo delle cucciolate per quanto riguarda il gatto innanzitutto cosa fare nel caso ci dovessimo trovare di fronte a una cucciolata di gattini? Dunque se troviamo una cucciolata di gattini randagi la cosa migliore nell'immediato è non fare niente perché quasi sempre i gattini hanno la mamma nelle vicinanze che magari si è allontanata perché o spaventata oppure perché è uscita per cacciare o per procurarsi il cibo. Quindi nell'immediato non fare niente, osservare cosa succede se la mamma non arriva oppure arriva ma i gattini non possono stare in quel posto lì perché può essere pericoloso o perché possono dare noia, allora bisognerebbe catturarli e decidere se occuparsene, cosa che non è facile, oppure rivolgersi a le associazioni che si occupano di prendere appunto le cucciolate che sono in particolare l'EMPA, lo scudo di PAM che hanno delle strutture proprio dedicate e poi ci sono anche altre associazioni che fanno come riferimento come l'OIPA o la LAV. Ecco non è semplice perché ovviamente ci vuole quella che si definisce una balia. Sì, diciamo che è più difficile in base a quanto sono piccoli i gattini, quindi più piccoli sono e più difficile è perché se per esempio hanno bisogno di essere allattati e soprattutto se sono molto piccoli l'allattamento è particolarmente impegnativo perché vanno allattati almeno ogni due ore, non è facile allattarli in maniera corretta perché il latte può andare di traverso, quando sono molto piccoli non riescono a ciucciare da soli, quindi possono andare incontro a problematiche legate alla respirazione del latte e poi i gattini ma questo anche se avessero la mamma sono comunque animali molto delicati, possono avere delle malattie di incubazione, quindi il tasso di mortalità anche con la mamma nei gattini è piuttosto alto, se non c'è la mamma bisogna allattarli noi o comunque allevarli noi, tirarli su noi, il tasso naturalmente aumenta di mortalità e poi proprio un impegno perché richiede un costante impegno giornaliero quando sono molto piccoli anche di notte. Ecco tempo di cucciolate, tempo anche di agitazioni, quali sono le prime cose da fare nel caso decidessimo di prendere un gattino? La prima cosa da fare è un esame delle feci, banalmente perché comunque già con l'esame delle feci ci rendiamo conto se ci sono dei parassiti intestinali, se il gatto ha diarrea o non ha diarrea, quindi la prima cosa è l'esame delle feci, in base a quello che viene fuori bisogna sverminare il gattino, questo si può fare già a un mese d'età e poi se i problemi intestinali non ci sono, sono stati risolti a due mesi si inizia il protocollo vaccinale che prevede una prima vaccinazione che classicamente copre per tre malattie e poi andrà fatto un richiamo dopo 3-4 settimane e poi a seconda del rischio si possono fare anche ulteriori richiami prima dell'anno di età. Ecco a quanti mesi possiamo portare un gattino a casa? L'ideale sarebbe tenerlo con la mamma, se la mamma c'è perlomeno fino a due mesi, perché comunque la mamma e i fratelli hanno una valenza sia sociale come insegnamento dal punto di vista comportamentale e poi il latte materno ha degli anticorpi importanti. Se non c'è la mamma e ci sono i fratelli comunque sicuramente dopo il mese di età, non prima. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici animali, come sempre in compagnia del dottor Albanese del Centro Dermatologico Veterinario, oggi per parlare di lesmania. Ecco innanzitutto cos'è la lesmaniosi canina? La lesmaniosi è una malattia infettiva molto molto diffusa nel nostro territorio, è molto molto grave e ovviamente l'animale la contraesse. È una malattia protozoe, è assoluta da un protozoo appunto lesmania. Come si contrae la malattia? È una malattia trasmissa da vettori, si contrae attraverso la puntura di un insetto, il flebotomo, durante il suo passo di sangue. Quali sono i sintomi delle lesmaniosi canina? I sintomi sono molto molto variabili perché è una malattia sistemica, una malattia che può determinare sia sintomi dermatologici che sintomi appunto sistemici e tutto dipende dal quale organo e apparato viene interessato primariamente. Per cui gli animali possono avere da banali lesioni cutanee, quindi lesioni dermatite esfoliative, lesioni nodulari, delle placche, fino a dei sintomi molto molto gravi che possono portare a morte l'animale come per esempio l'insufficienza renale che è una delle insufficienze d'organo più importanti che si osservano in corso di lesmaniosi. Ecco, dunque una malattia potenzialmente pericolosa per la salute dell'animale? È una malattia molto molto pericolosa, come detto è una malattia che può portare a morte gli animali e questo dipende un po' dal sistema immunitario dell'animale. Ci sono alcuni animali che sviluppano un'immunità positiva, quindi tendono a superare la malattia e altri animali invece che tendono a sviluppare un tipo di immunità non protettiva che può portare anche a morte gli animali. Esiste un vaccino? In commercio esistono due vaccini al momento, sono vaccini che devono fare chiarezza sul fatto che non danno una protezione alla malattia, dando la possibilità all'animale di ridurre in percentuale la gravità dei sintomi. Quindi vaccinare un animale nei confronti di lesmaniosi non equivale a dire che l'animale non svilupperà mai la malattia. Resta dunque fondamentale anche in questo caso la prevenzione? Assolutamente, è una prevenzione che però non deve essere vista come io applico un antidanzaro, un repellente animale, il mio animale non contrarà mai la malattia, purtroppo questo non è possibile, anche perché l'attività dei repellenti, avendo tanti peli animali, non è sempre affidabile. Vale la pena comunque di proteggere gli animali con dei repellenti che possono essere o dei collari o dei prodotti spot on o dei prodotti spray da applicare per cercare di ridurre quantomeno la possibilità di essere punti dagli insetti. Ci sono anche delle ore più insomma pericolose sotto questo punto di vista? Ci sono delle ore e dei periodi della stagione, diciamo che i flebotomi tendono a pungere maggiormente nell'ora crepuscolare e nel periodo che va da maggio a ottobre. anche se esistono delle nicchie, si ha alcune zone del territorio nazionale in cui i flebotomi riescono a vivere per più tempo e quindi ad essere presenti anche nei periodi in cui si ritiene non siano presenti. Quello che si potrebbe fare è quello di ridurre l'esposizione anche tenendo i cani in casa durante le ore di maggiore esposizione anche se questo non è sempre possibile oppure usare delle zanzariere a maglia molto fitte per ridurre il passaggio dei flebotomi. E' alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento come sempre con Simone Grotti. Torniamo a parlare di discipline sportive. Oggi parliamo di rally-o. Ecco, innanzitutto cosa è? Allora, il rally-o è un'obbedienza, un'obbedienza dinamica, si fa a tempo e molto più semplice dell'obbedienza. Nel senso, se tu esegui un percorso, il percorso prevede una serie di esercizi. Può essere variabile, gli esercizi sono all'incirca più o meno quelli. Sono fino a, se non ricordo male, 33-34 esercizi diversi. E ti vengono segnalati lungo il percorso con di cartello. Tu andi di cartello, ti devi fermare, fare l'esercizio, eseguirlo completamente e nel minor tempo possibile e ripartire. Si chiama rally-o è invece di rally-o-bedience, quindi è un'obbedienza, l'obbedienza è sempre la base. Il cane deve camminarti sempre a fianco, a guinsaio o non, a seconda del livello sempre, ogni regolamento, ogni sezione cambia. E eseguire l'esercizio serenamente. Tu parti, vai, prima stazione, ti fermi. Seduto e resta. Seduto, ti allontani dai passi che ti hai detto, ritorni. Riparti, seconda stazione, gira a sinistra, hai già una stazione, quindi porti a sinistra con il cane e riparti, prendi la tua direzione. Tutto quanto. Gli esercizi fondamentali che il cane deve conoscere è una condotta a terra, a fianco al padrone che non deve per forza essere in attenzione, costante e continua. Seduto, terra, alla perfezione e resta. Dopodiché variano, cioè c'è il seduto, e giri intorno al cane. Sono tanti piccoli esercizi, molto carini, simpatici, è uno sport aperto veramente a tutti e a qualche tipo di cane. A livelli più bassi è obbligatorio il rinforzo del cane, perché comunque sia il cane sta apprendendo, è giusto che il cane venga rinforzato, mentre in altre discipline non è previsto in nessun esercizio, qui sempre. È un'ottima disciplina per iniziare, insomma, ad approcciarci all'obbedienza per tutti i padroni, per tutti i cani. Sì, esattamente. È una disciplina sportiva che però non ha quelle pretese agonistiche che hanno altre discipline. Qualsiasi cane può partecipare senza nessuna esclusione, basta che il cane abbia piacere farlo. Capito? I livelli sono, mi sembra, cinque, e su questi cinque tu puoi spaziare da livello più basso che veramente che un qualsiasi cane te lo fa, ma anche in brevi tempi di addestramento, perché è molto semplice, però è divertente. Tu stai facendo comunque qualcosa del cane, stai affrontando una situazione. Affrontare una gara, per quanto semplice che sia, è sempre faticoso, perché c'è un livello di stress, l'emozione, andare lì e verrai giudicato, entri in campo con una persona che non conosci, ti diranno che sei fatto bene, sei fatto male, il cane è lì che si emoziona con te. È una cosa veramente importante, non sembra una cavolata, però sono cose che quando le affronti e siete insieme, poi vedi il cane che ti dà perché dice, oh bello, abbiamo faticato, quindi è bellissimo. E questa cosa, questa disciplina qui ti permette di arrivarci in un modo molto più semplice rispetto a tutte le altre. Non c'è quella fatica del lavoro, non c'è quello stress, perché lì in ipobigens c'è molta precisione, tanta precisione. Qui non è che è l'acqua di rose, però sono meno puntigliosi. Il cane esegue bene, se poi il cane esegue e scoscia un attimo a certi livelli, amen, non è un grosso problema, di là perdi punti. E qua, se non è velocissimo, non importa, il cane esegue, va bene, l'importante è quello. E quindi è molto più simpatica come cosa. E poi anche l'ambiente che circonda è diverso, meno agonistico e quindi più carino ad aprire. Bentornati allo spazio dedicato all'alimentazione. Oggi parleremo di alimentazione curativa. Ecco, partiamo dall'alimentazione olistica. Innanzitutto cosa è? Allora, sarebbe buonasera. Allora, l'alimentazione olistica è una, diciamo, novità di qualche anno. comprende, diciamo così, un'alimentazione dove sia il cane che il gatto ritornano un po' alle origini. Abbiamo studi scientifici, abbiamo visto che negli ultimi anni la curva di patologie come tumori, come ipertensione, come diabete si stanno molto impennando. La causa principale è proprio l'alimentazione industriale che in questi anni l'ha fatta da padrona. Quindi alimentazioni con grandi quantità di cereali e purtroppo con scarsa attenzione alla materia prima. Per medicina curativa dobbiamo dividerla in due rami principalmente, che è l'alimentazione olistica e quella nautriceutica. L'alimentazione olistica prevede innanzitutto l'utilizzo di una sola proteina animale principalmente. Ovviamente sempre con il concetto del grain free, quindi senza cereali, senza grano, neppure neanche il riso. Ultimamente comprende anche l'assenza di glutine, perché abbiamo visto che anche il glutine nel cane, nel gatto crea molti problemi. Particolare attenzione sono le carnitine, le lecitine e soprattutto l'utilizzo di erbe officinali. Le erbe officinali riducono molto del 60-70% le patologie. Come diceva Ippocrate è un'alimentazione, cioè mangiando, curandosi mangiando, che è il principale concetto dell'alimentazione olistica. Quindi prevediamo nel secco, specialmente perché nella carne ancora non c'è, prevediamo l'utilizzo di una ventina di erbe officinali, di olio di semi di linio, in modo da alzare decisamente le difese del sistema immunitario. Questo è nato come concetto, come curativa quando abbiamo una patologia. Però poi diversi studi, e anche la nostra esperienza negli anni sugli allevatori, ci dice che anche continuando si previene tante e molte malattie, specialmente in fase di anzianità del cane o del gatto. Distinzione principale la facciamo fra il cane e il gatto, perché sull'alimentazione del cane abbiamo bisogno di bassi contenuti proteici. al contrario del gatto. Quindi non sono molte le aziende che oggi hanno l'olistica, sono tre o quattro. Noi ci avvaliamo principalmente come azienda della Winner Plus, che è un'azienda tedesca che l'ha sviluppato fra una delle prime. Oggi siamo arrivati a un olistico 2.0, che ci permette appunto di trattare le erbe officinali con il trattamento ad osmosi. Questo ci permette anche in questi elementi di cavare tutti i tipi di allergeni, sia dalla proteina e sia anche dalle erbe officinali. Si parla ovviamente di vari tipi di carne. Sì, assolutamente sì. Tendenzialmente come cane l'approccio deve essere sempre una carne animale, quindi dalla carne di agnello alla carne di pollo e quella di anatra. Per ultima novità appunto abbiamo visto che il salmone può rientrare per caratteristiche organolettiche e caratteristiche proprio della proteina. La proteina sta entrando molto bene, specialmente lo consigliamo in cani di razza pura perché spesso sia i monossoidi specialmente hanno qualche carenza di omega 3 e omega 6. Il salmone è l'unica proteina animale che è in grado di ovviare a questa sofferenza che spesso ha nei cani. È alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità alla competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con amico a quattro zampe? Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338-500-7197. Bentornati, parliamo oggi di come accogliere un cucciolo all'interno della nostra casa. Quali sono le prime cose da fare nel momento in cui prendiamo un cucciolo a quattro zampe? Sì, torno un passo sempre indietro di un argomento di cui abbiamo già parlato. prepararsi ad accogliere il cucciolo, organizzarsi, cambiare le proprie abitudini, immaginarsi di come cambia la propria vita e la vita familiare. Quando arriverà il cucciolo è il primo pensiero, il primo step da fare per appunto accogliere il cucciolo che arriverà in casa. Nel senso che quando il cucciolo arriva in casa dobbiamo già sapere come cambia la nostra vita, non improvvisare. Il cucciolo arriva in casa, bene, è un, immaginandosi un cane che è stato giustamente fino ad allora, che avrà circa 70-90 giorni, è stato fino ad allora con i fratelli e con la mamma, ha questo primo grande cambiamento della propria vita e si ritrova da solo in un ambiente nuovo e con un nuovo branco, branco nel linguaggio canino, famiglia nel linguaggio nel linguaggio umano. Cosa fare e cosa non fare? Cosa non fare e che spesso purtroppo viene fatto è, arriva il cucciolo, arrivano gli amici, arriva le persone che tutti vogliono toccare, conoscere. No, non si fa assolutamente così. Dobbiamo dare, rispettare il momento di cambiamento importante per questo cucciolo e bisogna fare in modo che il cane capisca qual è il suo nuovo ambiente e la sua nuova famiglia. Quindi deve passare alcuni giorni. Fortunatamente il cucciolo si ambienta, impara in maniera velocissima, però, beh, di certo bisogna sicuramente aspettare alcuni giorni per fargli conoscere altre persone. Dobbiamo sapere che il cucciolo molto probabilmente, fino a che non maturerà, non si renderà conto di sporcare in casa. Quindi dobbiamo anche essere preparati, avere santa pazienza e di ripulire purtroppo i vari bisognini che spargerà per casa. Dobbiamo poi iniziare a portare... Voglio dire anche un'altra cosa di questo, che molto spesso sbagliamo. Non esistono punizioni di alcun modo perché il cucciolo sporca in casa. Esiste solo un'arma che possiamo avere perché il cane si abitui a sporcare dove vogliamo, a sporcare fuori casa. Premesso che il cane naturalmente non sporca dove vive, mangia e dorme, ma dobbiamo attendere che abbia un minimo di maturità e anche un minimo di maturità in un certo senso fisica perché la possa portare in poche parole fuori. L'unica arma che abbiamo, basandosi sul fatto che il cane è un orologio e sa benissimo qual è l'orario, dobbiamo essere molto regolari nell'arco della giornata a fare le uscite. Se noi siamo regolari, quindi sempre alle solite ore, durante i giorni, portiamo il cane nel giardino ad esempio, si abituerà prima a fare i bisogni fuori. Ecco, questo è un altro, un piccolo, diciamo così, trucco, diciamo così, che si può usare. Ecco, deve essere ovviamente una scelta consapevole, ben ragionata e ben preparata. Sì, prima che arrivi il cane a casa una famiglia deve avere fatto una marea di... Io invito tutti i miei clienti per dire, al primo incontro, quando ci conosciamo, quando loro vengono e conoscono me e io conoscono e mi informo delle loro abitudini e loro conoscono anche i miei cani, la prima cosa che vi chiedo, bene, da ora che uscite dal mio centro in poi, immaginatevi come cambierà la vostra vita quando avrete il cane in casa. Quindi, chi si alzerà la mattina, la domenica mattina, quando andrete in vacanza, chi lo porterà fuori negli orari durante la giornata, chi gli farà fare la passeggiata più lunga, chi gli farà conoscere tra virgolette il mondo, ovvero chi gli farà fare esperienze nuove durante la sua crescita, tutta una serie di cose. Ecco, l'invito mio che faccio è proprio questo. Immaginatevi, se voi aveste già fino da stasera il cane in casa, come cambierebbe la vostra vita? Questo perché? Perché bisogna essere assolutamente preparati quando arriva un cane in casa, perché il cane cambia l'asse familiare, le abitudini giornaliere della famiglia stessa, quindi è molto più importante pensarci prima che arrivare impreparati ad accogliere il cucciolo. Anche perché insomma richiede un grande impegno quotidiano. Richiede un grande impegno quotidiano, assolutamente pagato da una dolcezza e da una... Il cane è un animale assolutamente meraviglioso, ma però dobbiamo assolutamente anche noi... Purtroppo il cane oggi ci chiede una cosa che è la cosa più preziosa di tutti, ci chiede il tempo. Il cane è un animale sociale, non è in grado di stare da solo e ha bisogno di noi. La cosa, anche per fare un po', dico il mio pensiero, in ogni famiglia ci deve essere almeno due cani, perché appunto, per quello che ho detto, il cane è un animale branco, la solitudine non la concepisce, noi dobbiamo lavorare gran parte del giorno. Beh, se abbiamo almeno due cani in questo mini branco in famiglia, è una cosa molto più vantaggiosa per loro. E poi, per loro, e poi non ci scordiamo che comunque loro parlano la loro lingua, il loro linguaggio, che è uguale per un cane italiano o per un cane giapponese, ed è giusto che comunque mantengano la possibilità di comunicare a loro modo. Bentornati allo spazio dedicato all'adozione, siamo come sempre al canile comunale. Oggi per parlare di gattini, cioè inizia il periodo clu, ecco, cosa fare quando ci troviamo di fronte a una cucciolata? Allora, innanzitutto la cosa più importante è assicurarsi che la mamma non ci sia, perché molti vedono una cucciolata, pensano che sia abbandonata e in realtà la mamma è da qualche parte. Quindi, come prima cosa, bisogna veramente essere sicuri che la mamma non ci sia, perché se no potremmo anche condannare a morte quei gattini se li togliamo la mamma. Ecco, anche perché una volta toccati, insomma, si dice che la mamma poi non si avvicini più ai suoi gattini. Sì, se la mamma è soprattutto selvatica, difficilmente si avvicina o magari vede trambusto, parecchia gente intorno si spaventa e non ritorna più dai gattini. Ecco, nel caso invece non ci fosse una mamma, cosa bisogna fare? Allora, nel caso non ci fosse una mamma, ci sono molte associazioni che si occupano di gattini, tra cui noi, ci possono contattare. Allora, se si tratta di gattini che possono mangiare da soli, se abbiamo posto, ci chiamano, ci contattano e li possiamo anche prendere. Non è detto che il posto ci sia, perché il posto è limitato e i gattini sono molti. Se invece i gattini fossero da allattare, noi ci offriamo di dare latte in polvere, insegniamo alle persone come poter fare per allattarli, per fargli fare i bisogni, se loro si ne possono occupare. Abbiamo anche dei volontari, delle balie che crescono i gattini, al momento però sono piene, perché purtroppo il periodo clou è iniziato e quindi è sempre una questione un po' delicata. Però speriamo anche nelle singole persone che possano dare un aiuto, noi il latte, gli insegnamenti, li diamo senza problemi. Ecco, insegnate alle persone a diventare balie. Sì, come quante volte il gattino deve mangiare, ogni quante ore, come fare per fargli fare i bisogni, come tenerlo al caldo. Ecco, l'appello ovviamente è quello però alla sterilizzazione, in caso di colonie feline. Sì, quella è la cosa più importante, sterilizzare, sterilizzare, sterilizzare. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Ciao! Miau! 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 Miau!